Kobo Touch è un e-reader di ultima generazione che utilizza la tecnologia e-ink per riprodurre contenuti e consentirvi di leggere libri come fossero su vera carta stampata. Il suo schermo Touch Pearl e Ink da 6 pollici antiriflesso consente una lettura piacevole anche in pieno sole mantenendo una definizione perfetta. Il vantaggio di un e-reader come Kobo Touch è la possibilità di portare con voi una libreria intera in pochissimo spazio. La memoria interna da 2 GB e lo slot micro SD di espansione permettono di salvare più di 30.000 libri. A questo si aggiungono le potenzialità dell'applicazione Kobo che consente la sincronizzazione e la condivisione su diversi dispositivi dei libri che avete acquistato. Sì perché Kobo Touch è dotato di modulo wifi per facilitare la connessione e consentirvi di acquistare i libri online senza l'uso di un pc. Un e-reader davvero potente ed estremamente personalizzabile. Le diverse impostazioni consentono infatti di modificare le modalità di navigazione fra le pagine, i caratteri e le dimensioni del testo a piacere per godere di un'esperienza di lettura semplicemente perfetta.